e già in tutti i negozi tendenze dell'isola sconto del 70 per cento su oltre 100 mila capi uomo donna bambino di tutti i grandi marchi presenti nei nostri negozi e rilassati già te la compro io la giacchetta tanto da tendenze e tutto al 70 per cento tendenze a nuoro olbia sassari alghero carbonia